Il nostro dio aveva fondato la regione quindi aveva sancito i cinque piares che sarebbero cinque persone della regione sostanzialmente e per questo noi per festeggiare facciamo conoscere la nostra regione a tutti e noi ogni anno ci uniamo e festeggiamo insieme portando il cibo siamo tutti volontari quindi tutti portano il cibo che hanno, quello che vogliono posso portare e qua tutti possono mangiare gratuitamente quindi ci sono persone anche di tutta la zona, non so, insomma di tutta la zona, di tutto il mondo, qualsiasi persona può essere tutti vengono qua per festeggiare insieme noi e poi anche il cibo è sempre gratuito, doniamo tutto tutti possono partecipare la stessa cosa avviene ogni domenica, ogni sabato o ogni giorno in le nostre chiese che se qualcuno ha bisogno di cibo o qualcosa va là e può mangiare tranquillamente della vita ecco, volete lasciare un numero di telefono, una mail, un sito, qualcosa? sì, certo, possiamo lasciarti l'email, anche il numero di telefono dove si vuole contattarci, qualcuno vuole contattarci e comincia a dirle che poi lo scrivo ah ok, birinder, dico proprio lettera per lettera? sì, vabbè, dopo lo aggiungo nell'articolo ok, b-i-r-i-n-d-e-r-1998-i-cloud.com il numero di telefono è svizzero 079-657-1407 ma qui, in questa festa di oggi ci sono persone che partecipano da altre città pure? sì, sì, io vengo dalla Svizzera per dirti ah, dalla Svizzera io vengo dalla Svizzera per partecipare con i miei genitori e fare, come si dice, l'engare volontariato volontariato, capito per servire a tutti quanti ma perché in Svizzera non avete un punto di trovo? no, noi andiamo ovunque c'è perché c'è stato anche settimana scorsa a Brescia domani c'è a Novara, se non sbaglio, a Novara e oggi c'è a Somma Lombardi noi andiamo ovunque per festeggiare con i nostri fratelli con i nostri tutti i fratelli, tutte le sorelle i genitori, con i nostri cari, tutto quanto va bene, tutto, grazie Giuseppe Cresiva per il Quotidiamo Italia grazie